buongiorno 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 a tutti e tutti i miei amici italiani vicini e lontani e anche a chi riesce a seguirmi di lingua spagnola e portoghese perché no allora la storia del giorno oggi sarà la storia riguardo a maria malibran ebbene sì la malibran se ne parla ancora così come noi oggi parliamo della callas la callas la malibran pensiamo insomma mamma mia lei è morta nel 1836 quindi insomma quasi non proprio ma quasi 200 anni fa e ancora la ricordiamo incredibile questa cosa stavo pensando deve essere stata veramente una personalità particolare se ancora se ne parla e rimane indimenticata allora cosa possiamo raccontare di lei maria malibran è nata a parigi nel 1808 da una famiglia musicale anzi musicalissima perché erano tutti musicisti ovvero cantanti lei era figlia del famoso ma famoso manuel garcia ma anche la mamma cantava joachina e anche il fratello manuel tenore e anche la sorella pauline che poi divenne la famosa pauline viardò e quindi nacque a parigi nel 1808 poi morì a manchester nel 1836 molto giovane a 28 anni solamente ahimè 28 anni quindi pochi pochi anche per quei tempi in cui la vita era sicuramente più corta lei ebbe un incidente cadde da cavallo e da questa caduta non si riprese più purtroppo e quindi in conseguenza di questo incidente lei in effetti poco tempo dopo morì le avevano sconsigliato di continuare a cantare e di fare sforzi ma lei da vera diva del suo tempo invece o forse da chi lo sa personalità forte continuò invece imperterrita e di fatti pare che lei sia proprio morta poche ore dopo essersi esibite in un concerto a manchester il tempo di arrivare insomma un albergo ed esalare l'ultimo respiro questa è la storia beh andiamo per gradi maria malibrani inizia a studiare canto all'età di dieci anni abbastanza eccezionale direi perché il padre manel garcia capì ben presto insomma il suo talento e difatti fu il suo primo e unico maestro e talent scout si può dire impresario all'età di 16 anni lei si esibisce già in pubblico nel primo concerto cantando l'aria dalla cenerentola nacqui all'affanno al pianto e a 17 anni il suo debutto col barberi di siviglia di rossini a londra al king's theater era mi pare no non era era 1819 ad ogni modo rossini sarà per lei sempre veramente un caposaldo la renderà famosa in effetti perché rossini era uno dei suoi fedeli fans rossini la rese famosa e cantò veri di siviglia cenerentola turco in italia semiramide tancredi in ruoli sia di soprano che di mezzo soprano e di contralto pare che avesse una voce straordinaria tre e anche più più di tre ottave di tessitura quindi lei andava dal fa sovracuto il fa 5 il fa della regina della notte e scendeva a capo di collo sotto il do centrale al re grave cioè il re grave sotto il do centrale il re 2 diciamo quindi più di tre ottave era un soprano drammatico di coloratura come la callas beata lei cantava un po di tutto cioè cantava per dire dalla norma la parte del soprano ovviamente però anche romeo in capoliti e montecchi quindi una grande facilità per cui la sua fama insomma aveva aveva ragione d'essere la maria malibran con tutta la sua famiglia tra l'altro furono i primi a portare rossini in america cioè nel 1825 eseguirono per la prima volta a new york proprio il barbiere di siviglia quindi c'è una forte connessione anche se con rossini anche se lei poi quanto altri ovviamente altri autori non si può pensare ad esempio anche a donizzetti l'elizio d'amore maria stuarta altre cose però insomma rossini fu molto importante altri fans furono naturalmente donizzetti però anche mendelsson e list stavamo dunque dicendo che maria malibran aveva dunque un rapporto alquanto difficile con questo padre padre padrone e pare appunto come dicevamo che lui addirittura avesse abusato della figlia per cui maria malibran alla fine sposò un uomo molto più grande di lei 28 anni più grande di lei naturalmente senza amore per liberarsene una specie di fuga il matrimonio non durò come era facile da prevedere e anzi questo uomo tra l'altro e tali e gravi disastri economici che alla fine fu maria malibran a doverlo mantenere col proprio canto e questo fu una parte della della sua storia non bella maria malibran comunque era una persona sicuramente di grande talento perché oltre a cantare era compositrice pittrice addirittura ebbene sì anche una grande cavallerizza del suo tempo benché poi alla fine fu proprio quello a portarle questa fine così prematura lei compose 50 aria da camera in tre lingue italiano francese inglese e nel 2007 cecilia bartoli fece uscire un album molto molto ben fatto carino intitolato maria proprio dedicato a lei con le sue composizioni vi consiglio di così di andar volerlo ad ascoltare su youtube se ne possono ascoltarlo con i brani ce n'è uno che è una vera chicca molto simpatica un po buffo che si intitola rata plan bene una cosa bella direi ecco e quindi era insomma per diciamo condividere la storia di un personaggio comunque che ha fatto la storia e che ancora ricordiamo e che se ricordiamo sicuramente insomma ci saranno stati dei buoni motivi anche se noi non eravamo lì nella nostra coscienza collettiva ancora lei c'è ne si parla come la malibran a volte quando entro nello studio di certi colleghi di certi cantanti anche ripassatori mi capita spesso di vedere un quadro della malibran appeso al muro quindi un po come come la callas come queste questi personaggi chissà perché poi rimasta così nella memoria volte penso forse anche per questa morte prematura a volte questi eroi giovanili nel fulgore della loro bellezza del loro successo ad esempio ricordiamo merlin monroe james dean veramente lasciano un segno anche per questa tragica morte proprio nel momento della loro massima gloria forse chissà fu anche quello ad ogni modo è bello ricordarla è bello sapere che a volte ci sono come delle meteore come delle stelle filanti dei dei passaggi su questa terra di persone di anime che rendono il nostro mondo più bello e che in effetti vengono poi ricordate per sempre mi sembra un pensiero molto bello ecco questo era quello che io volevo condividere con voi spero che la storia del giorno vi sia stata gradita e ci vediamo presto per un'altra storia del giorno sino ad allora vi auguro ogni bene mi raccomando state in salute ci vediamo presto un caro saluto a tutti gli italiani vicini e lontani a tutti anche gli altri amici che mi seguono spagnoli e portoghesi da capi sin un caro saluto a tutti ciao